Io sono Paolo Socci e sono il titolare. La filosofia è basata soprattutto sull'innovazione, sulla ricerca, ma è un'innovazione particolare perché con gli occhi rivolti al passato io sto cercando di recuperare quella che era la tradizione di Lamule, che è una delle zone viticole più antiche della Toscana e noi siamo particolarmente interessati ad andare a ritrovare quello che facevano i nostri predecessori perché negli ultimi 30-40 anni alla viticoltura tradizionale è stata sostituita una viticoltura omologata a quella di altre zone pertendo molte cose rispetto a quello che era la nostra origine. E quindi è iniziata 20 anni fa un'opera di revisione nel senso di andare a vedere se per caso non avessimo buttato via il bambino con l'acqua sporca. Grazie a tutti!